E ben ritornati al mio canale, io sono WalkingDread e ben ritornati in ARK. Entriamo nel mio server. Situazione, intanto guardiamoci se ci sono i nemici nelle spalle. Lì non è raccomandabile perché c'è il ghiaccio, tanto ghiaccio. Quindi allontaniamoci da queste e facciamo legna e paglia. Dunque ho notato che c'era un posticino perfetto per fare un falò. Quindi, realizzabili. Facciamo quella da sella. Allora, facciamo innanzitutto fuoco da campo. No. Mi serve qualcosa di siringa estrazione, bandiera, muro di paglia, muro di paglia. Innanzitutto questa. Creiamo questo oggetto. Intanto lo mettiamo sulla 4. Ci creiamo anche una bella lancia. Poi, come siamo messi a cibo, acqua, ok. A peso, siamo a posto. Quello non so chi è. Non c'è niente. Ok. Senti, Dodo, come la vogliamo mettere? Ti riesco a domesticare? Mi dici che non ti riesco ad domesticare? Allora, è livello 28. Molto male. Tu manci quello? Tu mancia quelle robe lì. Tu mancia? Tu mancia? Inserisci cibo per addomesticare? Allora, qui dovrei fare una scorta di... Delle spezie che servono al Dodo. Serve al Dodo, serve al Dodo, serve al Dodo, al Dodo, serve. Andiamo ad aggiungere il Dodo. Prima che mi muore. Dove sei, Dodo? Eccoti. Ti prendi questo, ti prendi questa. La Major Bacca. La Tinto Bacca, la Steam Bacca. Insomma, tutto quello che serve. Anche la carne marcia, volendo. Intanto ci rifacciamo un altro po' di spezie. Allora, torniamo dal Dodo. Dodo, intanto manciamo, manciamo qualcosa, perché se no moriamo di fame. Dodo, tu... Come siamo messi, Dodo? Ti do anche la Narco Bacca. Ti do anche un altro po' di stordimento, non si sa mai. Ci do anche la Tinto Bacca. Mangia, Dodo, mangia. Devi ancora mangiare, Dodo, dai! Non mi morire, Dodo. Cioè, non non mi morire. Non ti risvegliare. Non ti risvegliare, Dodo. Non ti risvegliare per il momento. Non c'è che non ce la faccio, ragazzi. Mi muore il Dodo. Sì, ho capito, va bene. Beh, ho dovuto farlo, Dodo. Mi riprendo tutto quello che ci ha mai dato. Perfetto. Allora. Legna. Allora, questo è il livello 16. Bisogna stordirlo piano piano, ragazzi. Quindi, 4. Adesso da lì non ti muovi, perché questa è una trappola. Ma c'è dell'inventario. Ti diamo tutto quello che... La Narco Bacca. La Tinto Bacca. La Steam Bacca. Ti do anche la carne cruda. Il seme di Tinto Bacca. Ti do. Ti do anche la carne marcia. E vado a fare scorta per te, Dodo. No, mi piove, mi piove. Corriamo dal Dodo. Dai, Dodo. Non mi morire. Metà, metà. Però non ce la faccio. Ti devo dare un'altra botta. Vediamo. Cosa mi stai mangiando? 11, 37, 5, 10. 24, 11, 5. Ah, ho capito cosa ti serve, eh. Dai, Dodo. Che ce la faccio ad domesticarti? Non c'ho la Maggio Bacca. Non c'ho la Maggio Bacca. Mi serve la Maggio Bacca. Torniamo a prendere la Maggio Bacca immediatamente. Se no, mi muore il Dodo. Via, 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 via. Corri, 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 prendere. Dal Dodo, dal Dodo, dal Dodo. Torniamo dal Dodo. Dodo, non mi morire. Non mi morire, Dodo. Sei l'unico. Sei l'unico, Dodo. Sei l'unico. Non mi morire. No. Eh, ma per forza, cazzo. Sei. Vabbè, ci faceremo la scorta di carne. Facciamo l'inventario. Riprendiamo tutto. E buonasera, ok. Niente, questi Dodo non mi durano, non mi durano. Bisogna fare tanta scorta di Maggio Bacca. Qua bisogna fare piazza pulita. Piazza pulita qua. Piazza pulita di Bacca. Bacca, Bacca a non finire. Bacca a non finire. Bacca a non finire. Questo è il livello 112, ragazzi. È uno. Bacca a non finire. No, l'ho ammazzato. Sei. Vabbè, nel frattempo ci prendiamo un po' di segg. E pietra. Vabbè, nel frattempo dobbiamo anche mangiare, eh. Ok, due pezzi di carne l'abbiamo presa. Prendiamo un po' di legna. E paglia. Per accendere i fuochi. Allora, il nostro posticino era da queste parti. Qua ci creiamo, ragazzi, un bel falò. Realizzabili. Bandiera multilato. Piccone pietra. Bandiera, portapaglia, sella. Allora. Niente, niente. Ci abbiamo tutto. Eh, guardi. Faccia questo. Così, creiamo qua un bel focarello. Ci mettiamo, non so, dico... Per l'ora, solo 19 di paglia. Cuosciamo la carne. Ci mettiamo anche un po' di legna. Non si sa mai. E qua siamo a posto. Realizzabili. Allora, la borraccia... La creiamo subito, perché piove, quindi, possiamo prendere un po' di acqua. Quindi, nel frattempo, noi beviamo sette. No, non beviamo un cazzo. Sette. No, non ti andare a bugare, eh. Questa? Una pietra? Uno. Sei. Sette. Beviamo. Mangiamo. No, non mangiamo, finché non andiamo a prendere la nostra carne cotta, ragazzi. Accede all'inventario. Prendiamo questi tre pezzi di carne, che ci faranno molto comodo. E qua siamo a posto. Siamo un po' pesantiti dagli oggetti che abbiamo preso. Quindi, inventario. No, 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 non fischiare, per carità. Allora, per passare al livello 17, ancora ce ne manca. Quindi, realizzabili. Ci abbiamo anche la sella. Creiamo la sella. Poi cosa possiamo creare? Intanto possiamo creare anche un belletto. E rifugiamoci. Qua. Qua ci sono le nostre feci. Ok, io direi. Inventario. Realizzabili. Oggetti inventario. Direi di posizionarci. Posizionarci questo sacco a pelo al posto della fionda, per un momento. No. È il sacco a pelo. Tre. Oh, lo mettiamo qua. Che problema c'è? È ostruito. Da cosa? Da cosa è ostruito? Otto. No, è il sacco a pelo. È... Tre. Ok, ragazzi. Viaggio rapido. E da qua, ragazzi, possiamo rispaunare. Quindi, andiamo a prendere i nostri pezzi di carne cotta un altro po'. Perfetto. Mangiamo. E siamo a posto. Ora. Inventario. Questo abbiamo creato prima. Ehm... Vediamo, vediamo, vediamo. Niente di che. Realizzabili la sella. Eh, due selle per fioma. E siamo belli carichi, quindi qualcosa dobbiamo lasciare. Ma per ovviare questo problema, Viniagro Sturino ha bella cassa, che manca la paglia. La paglia la troviamo... La troviamo... La paglia la troviamo negli arbusti. Quindi andiamo in cerca di arbusti. Uno è questo. Quattro di paglia. Non so se basta. Non so se basta. Quattro di paglia. Non so se basta. Quattro di paglia. La cassa, la cassa, la cassa. Ehm... Manca ancora cinque di... Quindici di... Di legna manca. Quindi bisogna andare a cercarci, ragazzi, un po' di legna. Sarà dura. Ma bisogna farlo. Intanto mangiamo. Legna è qua. Allora facciamo col uno, forse con questa riesce meglio la paglia. Esattamente, ragazzi. Ogni arma ha il suo... Oggetto più rilevante. Quindi torniamo al nostro accampamento. Vediamo se possiamo creare una cassa. Perfetto, lo possiamo creare. Lo torniamo subito. Nel frattempo ci rinfreschiamo. Ok. In modo che siamo a posto. Anche di freschezza. Qua c'è il nostro letto di... Un saccappelo. Allora, ehm... Dicevamo, è inventario, realizzabili, cassa. Crea oggetto. E qua, ragazzi, ci schiaffiamo tutta la nostra roba in eccesso. E diciamo al posto del saccappelo che probabilmente non ci serve. Tre. Perfetto. Qua ci schiaffiamo. C'è l'inventario. Dentro ci possiamo mettere, realizzabili, no? I oggetti inventario, no? Eh, su. Allora, innanzitutto uno di questi. Poi. 37 di carne marcia. Poi. Qua andiamo a vedere la nostra carne che si è cotta. No, non c'è più la carne cotta. Bisogna andare a prendere qualche dodo. Comunque. Qua siamo a posto. Ci siamo un po' alleggeriti? Leggermente. Va bene. Andiamo a caccia di dodo con 5. Dove sei, dodo? Dodo? Dodo, 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 dodo. Dodo, io ti vorrei fare a pugni, ma... Che livello sei? 5. 5. Appugni, appugni, dodo. Dai, stordisciti. Scendi, giù, dodo. Dove vai, dodo? Ti sei andato a bugare qui dentro. Bra. Ah, vissi, devi scendere. L'ho ammazzato. Ecco, lo sapevo, l'ho ammazzato. Sei? Va bene, carne. Tanta carne per mua. Da mettere al nostro fuocarello. Allora. C'è l'inventario. Mettiamo un po' di carne al fuoco. La mangiamo. Perfetto. C'è la paglia. C'è tre di paglia anche. No, va bene. Quella più avanti. Ok, ragazzi. Allora. Inventario. Realizzabili. Poi bisogna costruirci una casa. Una casa. Anzi, bisogna mettere il pin, ragazzi, a questa cassa. Imposta pin. E il pin l'abbiamo messo. Questo abbiamo detto che non è utile per nulla. Sarebbe di andare a visitare quella luce viola. Allora, siamo messi molto male. No, molto male. Insomma, dobbiamo mangiare. Tre. E la carne siamo a posto. Vediamo che cos'altro possiamo costruire che ci possa tornare utile. Il pin può essere usato per immaginare risorse e nuove sostanze. Manca la pietra. Quindi, per la pietra, ragazzi, usiamo il 6. 6. Ho detto 6. Pietra, 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 pietra. Tanta pietra, tanta pietra, tanta pietra, tanta pietra, tanta pietra, tanta pietra, 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 pietra. La ripariamo. No, non la puoi riparare. Nel frattempo ho cagato. Quindi, inventario. Realizzabili. Possiamo realizzare una mazza. Una mazza, possiamo dire. Niente. Io volevo realizzare questo. Ok, questo. Crea oggetto. Un inventario realizzati. Anzi no, realizzati. Ah, questo. Diciamo che lo mettiamo al posto della cassa. Intanto. E tre. Richiede posizionamento sul pavimento. Quindi abbiamo capito che qua serve per forza un pavimento. Quindi bisogna fare un pavimento. Per fare il pavimento, letto semplice, tetto in paglia, cucina da campo, muro in paglia. Allora, ci serve una piattaforma. Fondamenti di paglia. Questo. E serve la paglia, giustamente. Per la paglia abbiamo questo. Allora. E bisognerà andare a cercare qualche arbusto. Ho paura di avvicinarmi lì che sentirò freddo. C'è. L'arbusto c'è. Paglia, 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 paglia. E abbiamo... Siamo saliti di livello. Dunque. Un altro punto sulla velocità. E andiamo... A sbloccare qualche altra cosa. Tipo torcia a piedistallo. Apprendi. Sei. Fondamenta di legno. Apprendi. E qua siamo a posto. A noi ci serve comunque la paglia. Quindi. Altra paglia. Paglia come non fosse mai esistita. Paglia, paglia. Ok. Ok. Con 71 di paglia. Dovremmo essere un pochino a posto. Quindi andiamo avanti. Questa la ripariamo. Che non ci costa nulla. beviamo. Beviamo. Mangiamo. E torniamo al nostro accampamento, ragazzi. Allora qua, se ci riesco, costruisco il nostro... pavimento. Allora, vediamo. Muro di paglia, piedistallo. Tetto, fondamenti di legno. Manca la legna. Mamma mia. Mancherebbe tanta legna, però io mi accontento per ora di un semplice pavimento. Tetto in paglia. Tetto in paglia inclinato. Porta, tetto. Fondamenta. Crea oggetto. Qui. Nel frattempo tu forse avresti bisogno di un po' di paglia. Oh, ancora c'è 57 di legna, ma 3 per mangiare dobbiamo prendere. Quindi facciamo due pasti e dovremmo essere a posto per un pezzetto. Ora. Inventario, no. Facciamo queste fondamenta di paglia. 9. Dove lo possiamo posizionare? Vediamo, eh, ragazzi. Vediamo, vediamo. Tiè, beccate questa. Intanto qua ci possiamo costruire anche la nostra. Oggetti, oggetti. Abbiamo costruito anche. Se non sbaglio, prima. Avevamo costruito qualcosa di interessante. o forse no, realizzabili. Volevamo costruire qualcosa di interessante. Muro in paglia, bandiera singola, pennello, siringa, mortaio. Questo, manca comunque tanta pietra. La pietra, ragazzi. Piedra, pietra, 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 pietra. ho sentito dei botti bene allora no, a me parto di averla costruita prima, oh non l'ho fibra, seme, fibra, tinto bacca legna, sella e paglia evidentemente non l'avevo costruita comunque realizzabili, manca ancora tanta pietra pietra, pietra, pietra pietra, pietra, pietra abbiamo scassato mezzo cribio dovrebbe bastare la pietra per realizzare il cosiddetto mortaio crea oggetto ce l'avevo già, ce l'avevo già non ho visto dunque, 3 porto un potente propulente necessario per qualsiasi arma da fuoco o esplosivo creata dall'amiciziazione della selci con la pietra in un mortaio con il pestello o in un banco di chimica macina alle risorse manca comunque il propellente chissà se c'è la tintobacca, no? seme di sassarota selce allora macinazione della selce selce, selce creata dall'amiciziazione un potente propellente necessario per qualsiasi arma da fuoco o esplosione polvere da sparo e polvere epirica va bene sa che vi dico ci facciamo una nostra struttura qui realizzabili tetto in paglia le sponde ingresso in paglia muro in paglia no, inclinato non mi serve non mi serve proprio porta di paglia muro di paglia facciamo questo muro di paglia muro di paglia lo mettiamo qua nel frattempo poi inventario realizzabile altro muro di paglia un altro muro di paglia qua due pacche l'abbiamo creata inventario le izabili un altro muro di paglia muro di paglia crea e l'entrata la facciamo qui direttamente dove sorge il sole realizzabili ingresso in paglia ingresso in paglia il posto del muro di paglia facciamo ok quattro no, no non c'era bisogno ma comunque va bene inventario oggetti ingresso in paglia quattro svrac il tetto ragazzi manca il tetto realizzabili bandiera tetto in paglia inclinato muro muro bandiera mortaio torcia torcia niente tetto 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 in paglia grande crea oggetto oggetto in inventario tetto di paglia tetto tetto in paglia perché non l'abbiamo non abbiamo la nostra porta inventario realizzabili bandiera bola tetto tetto piccone forse non ce l'ho come porta in paglia crea oggetto oggetto in inventario la porta in paglia l'apertiamo al 3 ed ecco noi siamo riparati belli c'è il nostro mortaio con pestello fuochi c'è il fuocherello e qua si apre la porta ragazzi meglio di così qua c'è il nostro sac a pelo che volendo riprendi sac a pelo rinomina riprendi sac a pelo lo mettiamo qui dentro se c'è posto non penso ma comunque il nostro sac a pelo lo mettiamo al 3 non c'è posto per il nostro sac a pelo non c'è posto per il nostro sac a pelo forse dovevo espandermi bene il nostro sac a pelo lo mettiamo qua ci sono problemi qua chiudiamo no non ci serve a noi ci serve da chiudere la nostra porta ok così almeno non ci vede nessuno bene ragazzi se vi è piaciuto il video lasciate un like un commento e working dead riprenderà un'altra volta alla prossima bye bye ok